Questa villa secondo me è bella nel suo insieme, è bella quando si arriva e uno la vede da fuori con il suo parco intorno, è bella per la grande loggia interna tipica di quel periodo e poi certamente il suo pezzo forte, il salone settecentesco di dimensioni veramente ragguardevoli su due piani con tempere su tutti i lati che lo abbelliscono. A Vedrana di Budrio c'è Villa Certanni Vittori Venenti, un esempio di edificio nobiliare di campagna settecentesco, noto anche come Villa Ratta, una meraviglia che si potrà visitare sabato e domenica in occasione della giornata nazionale dell'Associazione di More Storiche Italiane. Questa nasce come Villa Ratta ai primi del 1700, la famiglia Ratta era una famiglia bolognese di un certo rilievo ed è arrivata alla nostra famiglia, è stata acquistata ai primi del 1900 dal mio trisnonno. La villa è stata pesantemente danneggiata dal terremoto del 2012 e con i miei fratelli, proprietari di questa villa, ci siamo interrogati a lungo e abbiamo deciso di, proprio perché come ha detto lei ci riteniamo custodi di questo bene, non è un qualcosa che appartiene solo a noi, appartiene alla comunità, abbiamo deciso di avviare questo intervento molto impegnativo di consolidamento sismico e contestualmente abbiamo deciso anche di restaurarla per riportarla al suo splendore e anche a una fruibilità attuale. Le più belle residenze d'epoca dell'Emilia Romagna, come del resto d'Italia, verranno aperte al pubblico per visite guidate. L'Associazione di More Storiche riunisce oggi 4.500 soci impegnati nella cura del patrimonio culturale nazionale. Apriamo un numero rilevante di nostre proprietà proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla importanza sotto un profilo culturale e artistico di questi beni e promuoverne quindi la conoscenza delle problematiche relative alla conservazione.